Per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie D Girona F 2015-2016 Stadio Riviera delle Palme scendono in campo le squadre di Alma Juventus Fano e San Benetese il big match, la Samba pericolosa, Titone, si gol, il gol della Samba che va in vantaggio C'è intanto Camilloni che ha la cieca, prova a inescare Gucci e Sivilla, esce Pegorin La trama del Fano con Sivilla che serve Marconi, vediamo Ale Marconi, poi alla conclusione Marconi C'è Pegorin, Sivilla, attenzione, in qualche modo rischia la Samba, ancora Marconi Al limite, verso Sivilla, Sivilla di testa, la rimessa è rosso-blu Vediamo Nicola, il traversone di Camilloni, c'è Gucci, Gucci, il colpo di testa di Gucci Alma vicino al gol, ancora Davide, fischio del pubblico, ancora primo palo Il colpo di testa di Torta, alato dal posto in mano, si possa veramente cambiare rotta Finisce così, con la Samba in tripudio e abbracci del pubblico anche sotto la tribuna Una Samba che vince